Musica Buongiorno a tutti amici di Volonbrite, siamo in compagnia di Sara Fischetti, volontaria dell'associazione CISV e Federico Perotti, presidente dell'associazione. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, cominciamo con Federico. Di che cosa si occupa l'associazione e dove è andata ad agire? Allora, l'associazione CISV è nata 50 anni fa e è basata qui a Torino. Il suo nome è Comunità, Impegno, Servizio e Volontariato. È legato alle comunità che abbiamo sul territorio, ma è una comunità che si è aperta da subito al terzo mondo, quello che era il terzo mondo, il sud del mondo. Quindi la nostra associazione è oggi una realtà di solidarietà internazionale che svolge progetti di solidarietà con l'Africa e l'America Latina. Lavoriamo in diversi paesi, 12-13 paesi, con progetti di sostegno ai contadini, di acqua potabile, di sostegno all'infanzia abbandonata o piuttosto che in difficoltà, di diritti umani, diritti delle donne, diritti dei minori. Svolgiamo questo lavoro da tanti anni con supporto di tante persone, di tante anche organizzazioni. Lavoriamo in molti paesi in questo modo, nell'ottica della cooperazione e della solidarietà internazionale. Poi l'associazione in realtà fa un sacco di lavoro anche sul territorio, di educazione alla mondialità, delle scuole, lavora con insegnanti, con studenti di tutti i livelli, dai bambini fino all'università, fa campagne di sensibilizzazione, lavorano nell'ambito del tema dei rifugiati qui a Torino, quindi supporta comunità, piccole comunità di rifugiati politici che vengono dai paesi di provenienza. Anche proprio in relazione con il nostro lavoro in Africa e in America Latina, lavoriamo anche qui su questo tema. Quindi facciamo attività di informazione tramite il sito di volontari per lo sviluppo e ONG 2.0, sono attività sul web di informazione e di formazione su questi temi. Quindi è abbastanza ampia l'attività dell'associazione. Grazie. Sara, tu hai qui un pacchetto di riso e vuoi parlarci di quello che c'è dietro? Sì, allora questo riso è il riso che viene dato a tutti coloro che fanno un'offerta per la campagna Abbiamo riso per una cosa seria, che è una campagna che è partita a maggio e che è stata lanciata dalla Foxiv e hanno aderito tutte le ONG che fanno parte della Foxiv, tra cui la CISV. La CISV con questa campagna praticamente diamo il riso in cambio di un'offerta per i nostri progetti e i soldi che raccogliamo vanno in particolare per i progetti ad Haiti che sono progetti appunto con i risicoltori etiani. Il riso è stato comprato da dei risicoltori italiani in modo che ci sia una collaborazione tra contadini italiani e contadini haitiani. In questo modo si aiuta sia l'agricoltura in Italia che nel resto del mondo. Grazie mille, diamo solo i contatti così le persone che vedranno il video potranno andare a cercarvi e a informarsi di più. Sì, CISV ha la sua sede principale a Torino in Corsochieri 121-6. Il nostro sito è www.cisveto.org La mail è anche segreteria-cisveto.org per contatti generali. Potete telefonare anche in sede per avere informazioni. Facciamo anche esperienze per i giovani, servizio civile, SVE, servizio volontario europeo. Quindi abbiamo anche molta possibilità di inserire giovani nelle attività della nostra associazione. Grazie mille e buona salute a tutti. Ciao, dalla Salute in Comune!